Una cerimonia suggestiva e senza tempo, la mano sinistra sulla bandiera e la destra alzata con tre dita aperte, quale simbolo della Trinità. Nel cortile di San Damaso in Vaticano, 32 nuove guardie svizzere hanno giurato nel giorno in cui si commemora la morte dei 147 soldati elvetici caduti in difesa del Papa nel sacco di Roma nel 1527. Tutti hanno promesso di servire fedelmente, lealmente e onorevolmente il pontefice, sacrificando dove occorra anche la vita. Proprio partendo da queste parole, il comandante Christoph Graff ha sottolineato che, vista la situazione di tensione internazionale, il giuramento esige grande convinzione. La questione sicurezza, aggiunto, non va sottovalutata.